Buongiorno e benvenuta Sara Moretto, parlamentare di Italia Viva. Mai come in questo momento la denominazione del vostro partito è un momento davvero vivo, vivace della politica. Avete appena consegnato i simboli e adesso c'è una settimana di tempo per lavorare alle liste dei candidati. Non le chiederò chi saranno i nominativi. Lei è una tra le persone che in qualche modo per quanto riguarda la compagine di Italia Viva dovrebbe essere riconfermata, ma non diciamo nulla. Innanzitutto vorrei partire da questa alleanza con azione di Carlo Calenda. Azione che prima stringe un patto con il Partito Democratico, poi a detta del Partito Democratico e anche degli avversari del centrodestra, rinnega questa sottoscrizione e ovviamente viene a bussare alla porta di Italia Viva per poter essere, per mettere insieme le forze ed essere quel terzo polo che sì, potrebbe in qualche modo esprimere con una percentuale di voti di un certo tipo una posizione. Sì, intanto buongiorno ovviamente, grazie dell'invito. Io credo che questo che è stato chiamato terzo polo, ma che noi stiamo ridenominando anche in base al nostro programma Italia sul serio, noi crediamo che il 26 di settembre potrà essere una delle sorprese di questo appuntamento elettorale, anche perché ad essere oggettivamente sinceri siamo l'unica novità presente sulla scheda che troveranno gli elettori il 25 settembre. Da un lato c'è un centrodestra nella solita formazione, ma che ha del tutto abbandonato le posizioni moderate, perché dalla caduta di Draghi in poi il Forza Italia si è allineata alle posizioni di Salvini e Melloni e si sono assunti insieme una grande responsabilità che è quella di mandare a casa Mario Draghi. Dall'altra c'è un Movimento 5 Stelle per quello che ne resta e che sta a naspando e una coalizione di centrosinistra che come al solito cerca in qualche modo di mettere insieme pezzi diversi senza poi riuscirci fino in fondo e questa è stata in parte anche la fase che si è vissuta e che abbiamo tutti visto e che ha vissuto Carlo Calenda. Io più che commentare il passato cerco di commentare il futuro, io credo che l'accordo elettorale con Calenda, tra Italia Viva e Calenda, sia un accordo naturale, perché per molti aspetti programmatici abbiamo idee molto comuni e crediamo che questo rafforzi una proposta che così, con una alleanza così strutturata, si presenta agli elettori non solo come una alleanza elettorale ma come un progetto che può crescere, vivere e crescere soprattutto dal 26 settembre in poi. Lei prima diceva nel centrodestra non c'è più l'ala moderata, però c'è la compagine Noi Moderati che è formata tra l'altro da Coraggio Italia che è una componente che nasce nel nostro territorio con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, c'è anche l'Udc di Cesa e c'è Toti. Che differenza c'è tra noi moderati e il terzo polo che ha costruito Azione e Italia Viva? Al di là di una posizione ideologica, moderati più di destra e moderati più di sinistra, però questo rischia magari di fare confusione. Io credo che la principale differenza sia proprio nel coraggio che la lista di Brugnaro ha dimostrato di non avere, alleandosi con il centrodestra e quindi perdendo anche lì qualsiasi spunto innovativo, peraltro diciamo in un simbolo insieme ad altri che sono di lunga storia repubblicana, quindi credo che la novità e il coraggio di Brugnaro si siano terminati con il nome del suo partito. Dall'altra parte invece la nostra proposta è una proposta coraggiosa, che può essere considerata moderata forse nei modi, responsabile nei modi, ma non lo è affatto negli obiettivi. Noi il coraggio ce lo mettiamo davvero e lo mettiamo nella chiarezza delle nostre posizioni, per esempio sui temi energetici che purtroppo riguardano famiglie, imprese italiane e venete, che sono alle prese anche in questi giorni con delle bollette insostenibili. Noi crediamo che per dare risposte a questi problemi sia necessario parlare chiaro, sia i regassificatori, sia la produzione di energia, sia le estrazioni del gas nel mare Adriatico, nei giacimenti che abbiamo, sia a semplificazioni vere sulle rinnovabili. Noi su questi temi siamo molto decisi, come su altri per esempio che riguardano l'apparato istituzionale del nostro paese. Io credo non ci si possa confondere tra noi e quella lista a cui si è aggregato Brugnaro che guarda davvero al passato e all'ambiguità. Lei parla di aggregazione di Coraggio Italia al centro-destra, ma perché c'erano stati dei colloqui anche, c'erano stati delle riflessioni tra Italia Viva e Coraggio Italia? Ma in realtà no, perché Luigi Brugnaro, anche durante la partita della Presidenza della Repubblica, ha sempre dichiarato che lui si sentiva parte del centro-destra. Quindi in realtà, ribadisco, non vedo quale sia la novità e perché un elettore dovrebbe votare quella lista e non Lega o Fratelli d'Italia che insomma la faranno da padrone in quella coalizione. Calenda-Renzi, due figure politiche che nascono in seno al Partito Democratico, che si uniscono in questa coalizione ma mantenendo la propria identità e anche suddividendo un po' quelle che sono le responsabilità, responsabile della campagna elettorale Calenda-Renzi, un ruolo, chiamiamolo così, più istituzionale? In realtà bisognava indicare un frontman per questa campagna elettorale e io credo che Matteo Renzi, al di là di come venga raccontato, nei momenti cruciali dimostri la sua generosità. Quello che ha chiesto anche a noi, quando abbiamo insieme come gruppi parlamentari deciso di procedere sulla strada dell'alleanza con Azione, è una generosità che in questo momento guarda non tanto a chi sarà il frontman televisivo di questa campagna elettorale, ma che guarda invece ad un progetto ben più ampio, ben più lungo e che abbia come obiettivo quello di dare un futuro diverso al Paese. Noi siamo anche un po' ambiziosi, non ci piace sognare in piccolo anzi, ma crediamo che quindi in questo momento gli elettori avessero bisogno di chiarezza anche su questo, su chi è in questo momento responsabile della campagna elettorale, su chi stanno votando e Italia Viva da questo punto di vista e Matteo Renzi in primis si sono messi a servizio di questo progetto. Un progetto, un programma e un candidato premier non c'è? In realtà come sappiamo nel nostro Paese non si elegge il Presidente del Consiglio e questa invece è una delle proposte del nostro programma. Mentre Giorgia Meloni e Berlusconi in questi giorni propongono il presidenzialismo con l'obiettivo di disfarsi di Sergio Mattarella, che invece a nostro parere è stato per fortuna un faro di stabilità nel nostro Paese in questi ultimi anni difficili, noi invece proponiamo che agli elettori venga data la possibilità di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio. Noi vorremmo fosse così, oggi non lo è, in questo momento ovviamente per noi il referente istituzionale, cioè colui che sarà il referente istituzionale in questo momento è Carlo Calenda, con l'ambizione ovviamente di essere decisivi nelle prossime partite parlamentari, ma ben consapevoli insomma che sarà un gioco molto difficile. Io credo che non è così scontato che ci sia una maggioranza come qualcuno crede così netta al 26 settembre. Il vostro presidenzialismo, quello che proponete, quindi è una forma che si avvicina a quale forma che magari c'è già in Europa? Qual è la vostra proposta? Ma in realtà noi l'abbiamo elaborata basandoci sulla nostra Costituzione, quindi cercando di mantenere alcuni punti fermi. Per noi il Presidente della Repubblica, quindi non è il modello francese, quello a cui noi guardiamo, il Presidente della Repubblica deve rimanere garanti della Costituzione e delle istituzioni così come lo è oggi. Quello che chiediamo è che agli elettori venga data la possibilità di scegliere, votando un determinato partito, anche direttamente quello che sarà il Presidente del Consiglio. Un po' sul modello, ecco, se dovessimo scegliere un modello, è quello delle elezioni comunali. Infatti noi la nostra proposta la chiamiamo Sindaco d'Italia, perché per far capire alle persone a quale modello noi miriamo, ad una scelta diretta di chi sarà il Presidente del Consiglio e dei cinque anni, a meno ovviamente di crisi come quella che ha innescato il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, cinque anni di stabilità di governo. Quindi il nostro modello non è tanto quello di un altro Stato europeo, ma dentro la nostra Costituzione è quello delle elezioni del Sindaco. Che è una interpretazione, leggevo un'intervista rilasciata dal governatore del Veneto Luca Zaia, che anche lui sottolinea, in questa intervista che ho letto nel Gazzettino, la volontà anche di poter scegliere il Presidente del Consiglio e anche lui fa questo tifo di analogia con la figura del Sindaco. Per quanto riguarda l'autonomia, su un elemento per il quale sempre leggevo queste dichiarazioni di Zaia, ha detto che se il centrodestra, qualora appunto si aggiudicasse questa tornata elettorale, non facesse come prima azione l'autonomia, rischia di sciogliersi come neve al sole. Che interpretazione dà di queste posizioni di Zaia, che in qualche modo si possono avvicinare anche a punti del vostro programma e nel caso dell'autonomia qual è invece il programma? Ma io nel massimo rispetto del Presidente Zaia, che tra l'altro sposando la nostra idea di Sindaco d'Italia, dimostra che comunque chi è vicino ai territori, chi vive l'amministrazione a livello locale, e capisce bene che quello è il meccanismo che è più aderente anche a quello che chiedono i cittadini. Dall'altro devo dire che il Presidente Zaia in queste occasioni mi sa che fa queste uscite un po' per rivendicare il suo ruolo che in verito è infortunitissimo, ma per compensare il ruolo che invece la Lega Veneta a Roma assolutamente non ha. Noi dobbiamo guardare a tutta la partita dell'autonomia oggi con estrema serietà. I Veneti si sono espressi, c'è una grande richiesta di questa fantomatica autonomia, ma la Lega quando è stata al governo, in ogni occasione, sia nei governi berlusconi in cui c'erano maggioranze bulgare, sia con il governo gialloverde e da ultimo anche durante il governo Draghi, la Lega Veneta non è stata in grado di imporre o di far passare nella Lega Romana il proprio modello di autonomia. Questo ce lo dobbiamo dire. Allora io credo che da questo punto di vista forse anche la Lega Veneta dovrebbe cambiare vocabolario e smetterla di illudere i cittadini per poi non portare a casa nessun risultato quando si trova il governo. Bisogna parlare con maggiore pragmatismo, maggiore realismo e spiegare ai Veneti che è un lavoro difficile, che si può portare a casa senza esagerazione, perché questa idea di tutte le materie, di immediatamente un'autonomia al 100%, abbiamo visto che si scontra poi con altre necessità. Noi siamo, e quindi vengo alle nostre proposte, non vogliamo prendere in giro nessuno e vorremmo che questo grande blef dell'autonomia leghista si stoppasse, noi siamo per un'autonomia dei territori che sia differenziata, che sia basata sul buon governo, secondo un principio che è chiaro, semplice e che tutti capiamo. Chi sa bene amministrare le risorse pubbliche ha diritto di farlo, chi non è in grado di amministrare le risorse pubbliche lo ha dimostrato, perché ci sono anche casi purtroppo di dissesto dei bilanci pubblici da brivido, in quei casi quei territori non possono gestire le funzioni in maniera autonoma. Da questo punto di vista la nostra proposta è quella di seguire questo principio, ma di farlo davvero, senza esagerazioni che come abbiamo visto non portano a casa nulla. Maria Stella Germini, il ministro degli affari regionali, che si dice fosse un passo della realizzazione del trattato della legge quadro per l'autonomia, è confluita in azione lasciando forza a Italia e azione che è il vostro alleato. Questo significa, questa presenza è una garanzia della volontà di perseguire l'autonomia e anche magari di essere da pungolo per chiunque vada al governo per continuare quello che si è fatto? Noi crediamo di sì, crediamo che il lavoro che la ministra Gelmini ha svolto in stretto contatto con le regioni, tra l'altro mi pare che con lei tutti i governatori avessero espresso soddisfazione rispetto al lavoro svolto, sarà un patrimonio che Italia Vive e azione porteranno nelle aule parlamentari, quindi un lavoro da portare a termine. Di ministri che erano un passo dalla legge quadro sull'autonomia purtroppo ne abbiamo visti diversi, uno del PD che era boccia, uno della Lega Veneta purtroppo che era la ministra Stefani, ma di questo poi nulla ha avuto luce. Noi crediamo che la ministra Gelmini fosse un passo dal farlo, la stessa Lega ha fatto cadere il governo prima che questo accadesse e comandando a casa Mario Draghi, quindi diciamo è troppo facile lavarsi le mani quando poi si è responsabili degli stop su questi temi. Noi intendiamo portarlo avanti. I malini potrebbero dire che vi siete equalizzati, azione e Italia Viva per così avere la garanzia di superare il 3% che è la norma di sbaramento? In realtà Italia Viva era già pronta, eravamo attrezzatissimi per correre da soli con la certezza di superare il 3%, quindi non era quello in quel momento la nostra preoccupazione. La nostra preoccupazione o meglio la cosa in cui credevamo è che questo terzo polo che abbiamo voluto costruire fin da subito perché il motivo per cui è nata Italia Viva è proprio questo, quello di cercare di fare una proposta diversa e alternativa agli schieramenti che ci sono in campo ormai da anni nella stessa veste. Questa proposta di polo alternativo avesse più senso, più valore, più capacità comunicativa se dava l'idea anche di una costruzione, di una sinergia tra forze politiche diverse in modo che non sembrasse una proposta solo nostra. Il fatto che Carlo Calenda, che nelle parole in più occasioni aveva dimostrato di voler far parte di questo terzo polo, abbia poi deciso di farne parte davvero e sia venuto nel nostro progetto, questo ha comportato ovviamente un aggiustamento dei programmi, una composizione delle liste che come lei diceva all'inizio è ancora in corso, però crediamo che questa sia una fatica che va fatta per dare un vero senso a questo terzo polo che stiamo costruendo con assoluta convinzione. Il Rosatellum, che è il sistema elettorale con cui si va a votare, che è frutto di Ettore Rosato, un membro di Italia Viva, non penalizza proposte come la vostra, non è una specie di boomerang in questo momento e c'è la necessità di una riforma elettorale, l'hanno detto tutti credo che c'è la necessità di rivedere il sistema elettorale perché è troppo faragginoso e magari non garantisce, lo stesso Calenda mi pare oggi abbia detto chiunque vinca non riuscirà a governare più di sei mesi. È evidente che Rosatellum fu scritto non molti anni fa ma in quella che è un'altra epoca da un punto di vista politico, tra l'altro fu scritta con un Parlamento che aveva dei numeri diversi perché ricordiamoci che il 25 settembre andremo a eleggere due camere notevolmente ridotto nel numero di parlamentari da eleggere e questo incrociato con il Rosatellum comporta per esempio il rischio che molti territori non vedano eletto nessun rappresentante. Io credo quindi che la legge elettorale debba essere rivista ma che debba essere rivista non solo come strumento di elezione ma sulla base anche di una vera riforma anche istituzionale senza tornare sempre sul passato però noi abbiamo sostenuto con forza l'idea che si potesse superare l'attuale Senato trasformandolo in una Camera delle Regioni e portando l'unica Camera legislativa nella Camera dei Deputati. Io resto assolutamente convinta che questa sia la strada corretta e quindi una legge elettorale dovrebbe essere poi rispecchiare queste riforme istituzionali. Purtroppo abbiamo visto che durante questa crisi pandemica ed economica e ora energetica il procedimento legislativo italiano così come era pensato in altri tempi e in altri contesti è diventato assolutamente inadeguato ai tempi che sono richiesti oggi tant'è che negli ultimi mesi tutti i decreti e solo quelli del Governo sono stati esaminati sostanzialmente da una Camera sola quindi togliendo ulteriore rappresentanza ai territori e ai cittadini. Quindi io credo che la legge elettorale debba essere rivista sì ma possibilmente a seguito di una riforma istituzionale. Non le chiedo un totonomi perché non sarebbe nemmeno corretto in questa fase ma le chiedo se c'è rischio che il nostro territorio, il territorio del Veneto possa non essere rappresentato e in che misura. Questo spiega anche la fatica che state facendo voi come Italia Viva come Azione, come la vostra coalizione ma tutte le coalizioni per comporre le liste in modo che appunto ci possa essere una rappresentanza adeguata, proporzionale ai voti che ciascuna realtà si presenta. Quali sono le difficoltà? Ma le difficoltà, io credo insomma per rassicurare anche i cittadini di Veneto io credo che il Veneto avrà a queste elezioni una buona rappresentanza ovviamente di diverse forze politiche, io poi parlo per la mia ma insomma avrà una buona rappresentanza. La difficoltà che c'è a cui lei faceva riferimento per l'applicazione della legge elettorale è che poi soprattutto alla Camera l'individuazione di colui che viene eletto è fatta con un meccanismo molto complicato che è difficilmente prevedibile oggi quindi dire oggi che venga eletto un trevigiano piuttosto che un romano piuttosto che un torinese è davvero davvero difficile al Senato e sulla base del risultato regionale quindi è necessario che un partito in una regione superi questo fatidico 3%. Quello della Camera è su base circoscrizionale insomma con un metodo molto complicato. Noi per quanto ci riguarda Italia Vive Azione punta sul Veneto credo si sia capito anche dalle dichiarazioni di questi ultimi giorni punta molto sul Veneto perché siamo convinti che la nostra proposta proprio qui in Veneto possa trovare riscontro nei bisogni di tanti elettori del Veneto perché la nostra è una proposta che per quanto riguarda imprese anche quelle più piccole, anche quelle artigiane e familiari punta alla crescita, allo sviluppo, alle semplificazioni e all'abbassamento del fisco e delle tasse e per quanto riguarda le famiglie non possiamo che proporre di continuare nel percorso avviato dalla Ministra Bonetti che in Veneto tra l'altro è venuta diverse volte possiamo dire che è di casa e che con il Family Act ha messo sul tavolo un programma che è a lungo termine, che va ben oltre l'assegno unico e universale che già le famiglie hanno incominciato a ricevere. Quindi noi consideriamo la nostra regione il Veneto strategico e qui Italia Vive Azione puntano ad eleggere diversi deputati e senatori. Quando si compilano le liste, questo sempre non entro nel merito tutti quanti c'è chi mette dei nomi altisonanti che poi qualora fossero eletti cedono il passo al secondo in lista proprio perché il nome eccellente fa da traino in un posto piuttosto che in un altro che questo forse in questo momento credo che sia la cosa meno indicata soprattutto anche perché bisogna fare i conti con il rischio di disaffezione al voto con il rischio di un astensionismo che possa essere ancora più pesante speriamo di no, delle recenti consultazioni. Sì, in realtà l'abbiamo già visto, per esempio per quanto ci riguarda Carlo Calenda ha proposto di essere capolista in Veneto e lo fa sulla scorta anche, dobbiamo dirlo, di una campagna elettorale che lui fece e che lo vide eletto proprio qui in Veneto per il Parlamento europeo e che quindi gli ha fatto maturare in questi anni una serie di relazioni e di rapporti con il nostro territorio, quindi diciamo tendo a non considerarla una candidatura paracadutata come si suol dire in questi casi in Veneto ma la continuazione di un rapporto che lui ha sempre tenuto con la nostra regione. Certo che sempre per i meccanismi della legge elettorale ciascun partito nei propri leader farà delle pluricandidature e per forza maggiore queste pluricandidature saranno anche al di fuori dei territori di appartenenza. Io credo però che anche queste candidature fuori territorio debbano essere giustificate e non debbano essere fatte per garantire il posto sicuro a qualcuno che tra l'altro è magari non solo paracadutato nel territorio ma anche infilato nelle liste di qualcun altro. Senza fare riferimenti territoriali, quello che posso dire lo dico per noi Azione e Italia Viva non ospiteranno per diritto di tribuna nessuno del Movimento 5 Stelle o simili anzi lo sapete, noi siamo chiari e trasparenti le nostre candidature saranno di esponenti di Italia Viva di Azione e in più di quelle forze politiche che hanno aderito a questo terzo polo che al momento sono la lista di Pizzarotti che quindi è una lista di amministratori che vede anche degli aderenti in Veneto e il Partito Repubblicano che ha detto di voler sostenere la nostra proposta elettorale. Non faremo scherzi ai Veneti o non utilizzeremo il Veneto per piazzare qualcuno di scomodo. Si parla di giovani, da quest'anno potranno votare per il Senato anche i diciottenni il fatto, non so se si può evidenziare, di essere andati alle urne in maniera così imprevista probabilmente non ha permesso di completare un lavoro di formazione di nuove figure candidabili che magari ciascun partito stava formando in previsione di marzo. Faccio la domanda proprio a lei di Italia Viva quanto spazio pensate di andare, di dare ai giovani magari anche figure non note perché sennò c'è il rischio che troveremo in lista sempre i soliti noti che da tanto tempo insomma siedono in Parlamento certo quest'anno ci sono 345 posti in meno in questo tornato elettorale. Beh, devo dire che insomma tra gli esponenti uscenti di Italia Viva non è che ci siano soliti noti nel senso che gran parte dei miei colleghi insomma o è la prima o è la seconda legislatura No, facevo riferimento effettivamente ad altre compagini, mi perdono. Nella maggior parte dei casi io ho molti colleghi che stanno tra i 35 e i 45 anni Lei è un esempio di essere giovane, in effetti. Insomma, però insomma nella fase forse migliore in cui svolgere questo compito in cui si ha una certa maturità, una certa esperienza ma allo stesso tempo la voglia di rompere un po' gli schemi che tende ad essere più facile nell'età più giovane. Io credo quindi che in realtà i posti che verranno cioè diciamo gli effettivi eletti non saranno moltissimi e quindi non so prevedere quanti di questi siano effettivamente dei giovanissimi quello che posso dirle è che Italia Viva da quando è nata ogni estate fa una scuola di formazione politica con 300-400 ragazzi che dal primo anno tra l'altro molti di loro ritornano che quest'anno abbiamo dovuto, era prevista per gli inizi di settembre abbiamo dovuto a Ventotene tra l'altro con un grande valore simbolico abbiamo dovuto spostare per evidenti esigenze di campagna elettorale però ecco per noi questi ragazzi non sono solo dei ragazzi da vedere una volta all'anno alla scuola politica ma sono dei ragazzi che fanno parte stabilmente a tutti gli effetti quelli che vogliono perché c'è chi viene ovviamente solo per propria formazione personale a tutti gli effetti del partito a loro diamo incarichi territoriali a loro chiediamo di candidarsi alle elezioni comunali perché ricordiamoci che la politica almeno io l'ho vissuta così si incomincia nel proprio comune, nel proprio consiglio comunale quindi per quanto ci riguarda l'investimento sui giovani è vero e sincero quanti e molti di loro insomma troveranno magari posto nelle candidature quanti poi di questi possano essere eletti ad oggi come ben sano non sappiamo, non possiamo dirlo se le chiedo un bilancio della sua attività in questa prima legislatura che l'ha vista da protagonista poi tra l'altro lei ha puntato anche spesso il dito per la realizzazione di cose concrete nel territorio quindi ha lavorato per il territorio in una visione che dovrebbe essere anche poi quella visione adatta ad una gestione dell'autonomia di governi autonomi con riferimento però ovviamente ad uno stato centrale beh ecco, come facevo cenno poco fa io ho iniziato a fare politica nel consiglio comunale del mio paese e per me quello rimane diciamo l'imprinting il modo in cui si deve fare politica a tutti i livelli quindi occuparsi delle cose nazionali ma pensando sempre al proprio territorio alle persone che si conoscono alle famiglie, alle imprese che si frequentano con l'idea di fare la propria attività a Roma ma riuscire a tornare a casa con qualche piccolo risultato per il territorio da cui si parte e quindi io devo dire che con la fatica che in questi anni perché forse nel passato tra leggi mancia e cose del genere era più facile portare anche qualche risorsa a casa ora è molto più difficile però devo dire che pur essendomi scontrata in molte occasioni con colleghi o con il governo per questioni territoriali io sono soddisfatta ho portato a casa qualche risultato in termini di risorse ma anche in termini di modifiche normative che servivano a imprese e famiglie venete però devo dirle anche che ho molte partite ancora aperte che mi è dispiaciuto non poter completare alcune per esempio che riguardano il credito alle imprese attraverso i consorzi fidi che in Veneto per esempio sono una realtà importantissima altre che riguardano alcune categorie di imprese artigiane che hanno bisogno di una nuova legge quadro e anche alcune questioni che riguardano le nostre infrastrutture territoriali mi sono sempre occupata della terza corsia della quattro ma anche di opere che riguardano Venezia che è la città capoluogo della mia area metropolitana quindi insomma ci sono ancora tante partite aperte che mi è dispiaciuto non poter concludere Una domanda secca quella finale Italia Viva ha portato Draghi a Palazzo Chigi Italia Viva ancora punta su Draghi qualora Draghi accettasse poi di fare ancora il premier? Sì se la domanda è secca la risposta è secca sì Italia Viva crede che Mario Draghi sia stato colui che ha dato una svolta alla campagna vaccinale di contrasto al Covid è stato colui che è riuscito a ottenere miliardi dal fondo Next Generation U è stato colui che è riuscito a risultare credibile e autorevole in tutti i piani internazionali è stato protagonista della posizione europea sul conflitto russo-ucraino per tutti questi motivi e per molti altri noi crediamo che lui sia stato un buon presidente del Consiglio e che potrebbe esserlo ancora qualora lo volesse un'ultima cosa mi ero dimenticata il vostro rapporto con il PD alla luce di quello che sta succedendo ci potrebbe essere a elezioni definite un lavoro di squadra, di governo? noi come abbiamo detto durante la fase delle alleanze non siamo interessati a posti e posticini per cui vi dico già in anticipo se il dialogo dovesse essere solo basato sul ti do due sottosegretari, un ministro o qualcos'altro noi rispondiamo no grazie non ci interessa se invece saranno da farsi dei discorsi come quelli che si sono fatti per far arrivare Mario Draghi di alleanze larghe per il paese noi ovviamente siamo disponibili ma non con ambiguità io le confesso sì, noi è difficile che troviamo un punto di mediazione con Frattoianni o Bonelli con chi si mette con le bandiere di fronte ai porti perché non vuole i rigassificatori ecco, noi con quelle posizioni in questo momento per quello che serve al paese non siamo disponibili a mediazioni e per quanto riguarda il centrodestra poi giuro che la lascio che viene dato da tutti i sondaggi per vincente quasi garantito ci potrebbe essere che tipo di dialogo? ma per noi diciamo la frattura che si è aperta nel paese con la caduta di Draghi è stata una frattura che non è rimarginabile per cui da questo punto di vista noi con Meloni e Salvini abbiamo sicuramente non poco niente da spartire Forza Italia ha fatto una scelta che è ben diversa credo però che gli elettori di Forza Italia non siano tutti così convinti di questa operazione io ringrazio Sara Moretto parlamentare di Italia Viva e le auguro buon lavoro non sarà una settimana facile quella che vi aspetta a tutti i guanti di ogni schieramento politico grazie è vero arrivederci grazie a lei arrivederci grazie